bentonati a tutti qua su overland italia la piattaforma italiana dei viaggi via terra ma soprattutto a domande ridotte questo appuntamento voglio dire settimanale ma non so se uscirà in settimana in cui io vi porgo un argomento con domande e voi nei commenti mi fate sapere le vostre opinioni e facciamo un ragionamento facciamo una discussione questa comunità e cerchiamo di mantenerla però in maniera civile l'argomento di oggi che arriva sia dopo aver visto un video di Andrew St. Pierre White un personaggio molto famoso nel mondo dell'overlanding che ormai viaggia dal 96 a un canale youtube il cui link vi metto in descrizione ma soprattutto dal grosso costo di quello che è benzina e gasolio un po' in tutto il mondo parliamo quindi di veicoli elettrici ormai siamo arrivati a un livello di tecnologia tale che con pannelli solari e batterie portatili e o doppie batterie possiamo provvedere al nostro fabbisogno giornaliero in tutti gli aspetti di quello che è un viaggio molto lungo tranne che appunto la funzionalità del veicolo stesso che stiamo usando in questo momento che va a benzina o gasolio il problema principale dei veicoli elettrici che stanno uscendo però non è come tutti pensano l'autonomia secondo me perché le autonomie sono molto alte guardiamo il Rivian che ormai sta ormai sta andando a quelli che sono la gente che l'ha comprato in cui ho investito abbiamo un'autonomia di circa 400-500 chilometri che non è poco macchine normali che usereste per andare a fare la spesa hanno autonomia molto alte per quello che vi serve perché potete caricarle tranquillamente a casa il problema principale quindi non è l'autonomia ma è il fatto del dover poi caricare eventualmente la macchina in un posto che non è casa vostra perché se consideriamo un viaggio via terra un viaggio overland un viaggio molto lungo quando andate da un punto a un punto b volete poi nel punto b fare una carica completa perché poi dovete andare a un successivo punto c in questo momento arrivato al punto b sapete che c'è 1 2 3 10 stazioni benzinai fate il pieno 5 10 minuti è finita macchina elettrica dovete prima di tutto verificare che ci siano delle colonnine per caricare e poi sperare che non ci sia nessun altro che stia caricando il proprio veicolo dove vuole volete andare perché se come ho già detto dal benzinaio per fare il pieno ci metti 5 10 minuti massimo per fare una carica completa in un velicolo elettrico pensando che ci siano le cariche quelle veloci livello 3 se non sbaglio si parla di almeno 50 minuti se non un'ora e mezza due ore e qui c'è una grossa opportunità per quelli che sono i benzinai di adesso perché molto del loro ricavato viene da quello che la gente compra all'interno poi del negozio mentre fa il pieno più che dalla benzina di per sé e quelli sono 5 10 minuti cosa venderanno i benzinai alla gente che dovrà star ferma dai 50 minuti alle due ore per fare una carica completa e sapranno di gente che viaggia al loro veicolo questa è un'opportunità immensa che imprenditori dovrebbero prendere al balzo ma che non stanno facendo il problema principale quindi di adesso come già detto non è l'autonomia ma sono le infrastrutture perché la tecnologia e la costruzione di macchine elettriche è qua e le infrastrutture che dovrebbero supportarlo sono qua sotto sono almeno dieci anni indietro e non vedo nessuno nessun governo o privato che sta investendo così tanto per appunto ampliare queste infrastrutture soprattutto in zone remote ma soprattutto viene fuori quella che un altro quesito che io mi porgo sempre immaginate di essere con amici è andata a fare un trekking di una giornata o di un weekend prendiamo l'esempio di una giornata e la sera prima non avete caricato appieno il vostro veicolo completamente elettrico andate fate tutto quello che dovete fare poi state riportando a casa i vostri amici nella macchina ma non avete abbastanza carica per portarli a casa se fosse un veicolo a benzina andreste dal benzinaio fate quei 20 euro 30 euro per portarli a casa in 10 minuti è fatta e siete sulla via del ritorno di nuovo immaginate che avete un veicolo appunto completamente elettrico arrivate lì e oltre al dover dire ai vostri amici che c'è da aspettare almeno 30 minuti per fare quel 20-30% ma poi immaginate che c'è la colonnina occupata ancora già da qualcun altro e quindi doveste aspettare ancora di più e lì diventa strano perché non penso che anche se fossero i vostri migliori amici hanno un'ora di tempo per aspettare voi perché vi siete dimenticati di fare una carica completa o perché semplicemente il vostro veicolo ha consumato più di quanto avrebbe dovuto per concludere cosa ne pensate dei veicoli elettrici per l'uso di viaggi via terra o viaggi overland appunto molto lunghi siete completamente contro l'elettrico siete a favore ma non lo comprereste ancora siete a favore ma ce l'avete già magari e quindi potete farmi sapere come ve la state passando appunto con queste cariche perché in Europa come anche qua in Canada come ho già detto le infrastrutture sono molto indietro fatemi sapere tutte le vostre risposte e quello che pensate appunto nei commenti e noi ci vediamo a un prossimo appuntamento su domande ridotte ciao 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 ciao